Benvenuti all'edizione delle 14 e 30 di Calabria News 24 in forma. Avevano lasciato nel porto Anfam, posto nella loro autovettura, il figlio di pochissimi mesi. Si tratta di due tunisini tratti in arresto dai carabinieri di Cosenza, ma vediamo il servizio. I carabinieri a Cosenza hanno arrestato dei coniugi tunisini con l'accusa di abbandono di minori aggravato da legame genitoriale. Nel corso di un controllo i militari nel parcheggio di un centro commerciale in località malavicina di Zumpano in provincia di Cosenza hanno rinvenuto all'interno di un porto infante collocato nei sedili posteriori di una Fiat Punto un neonato di sei mesi. I carabinieri notando che la macchina era chiusa con i finestrini sigillati hanno forzato lo sportello per consentire il riciclo dell'aria all'interno dell'abitacolo chiedendo subito dopo il supporto del personale del 118 i quali una volta giunti sul posto hanno visitato il neonato riscontrando il buono stato di salute. Subito dopo sono scattate le attività di indagine visionando i filmati degli impianti di videosorveglianza che hanno consentito di identificare i genitori che ignari di quanto stava accadendo si trovavano all'interno del centro commerciale a fare la spesa. Una volta affermati sono stati dichiarati in stato di arresto e tradotti presso la loro abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Le politiche sociali sono considerate tra i punti cardine di ogni amministrazione pubblica lungimirante e attenta. A San Marco Argentano se ne è discusso nell'ambito di un dibattito dal titolo disabilità, famiglia e comunità. Sentiamo i particolari nel servizio di Paolo Talarico. Le politiche sociali, le attenzioni verso le categorie deboli, il cosiddetto welfare non possono non essere uno dei punti cardine dell'azione di qualsiasi amministrazione pubblica, di disabilità, famiglia e comunità. Si è discusso in un incontro a San Marco Argentano in provincia di Cosenza, un appuntamento in cui non sono mancati gli interventi di esperti del settore che hanno manifestato la necessità di intervenire e rivolgere maggiori attenzioni a queste tematiche. È il riferimento al ruolo delle amministrazioni pubbliche fondamentale e il ruolo della regione. Credo che il miglior viatico per portare a soluzione problemi seri che interessano le famiglie, interessano i ragazzi, sia quello di ascoltare gli altri. Questo appuntamento rientra nel novero degli incontri che con il Presidente Oliverio e Assoro Cisano stiamo facendo sui territori. Intanto per raccogliere istanze, per contaminarci e contaminare sulle cose che vogliamo fare e dare anche indizi su ciò che stiamo facendo alla regione Calabria. Perché c'è un piano, si sta costruendo la riforma proprio dello Stato sociale, c'è un piano che abbiamo messo in campo che mira a rafforzare l'assistenza alla persona, c'è un'attenzione particolare. E ora parliamo di viabilità. Dal 13 al 15 ottobre l'ANAS comunica che in alcuni tratti della 3 Salerno-Reggio Calabria ci saranno delle limitazioni di percorrenza, ma vediamo in servizio di Dario Rondinella. Tra giovedì 13 e venerdì 15 ottobre, in corrispondenza del chilometro 123 per i flussi veicolari interessanti, la rampa di collegamento da e per lo svincolo di Lago Negro Nord e la viabilità minore, la circolazione sarà disposta a senso unico alternato disciplinato attraverso blocchi temporanei della durata massima non superiore a 10 minuti, regolato a mezzo di movieri. È quanto comunica ANAS in un comunicato stampa. La limitazione della circolazione veicolare si renderà necessaria per l'esecuzione di interventi di pavimentazione nell'area di accesso alla cabina elettrica e al collaudo dell'impianto a servizio dello svincolo di Lago Negro Nord nell'ambito dei lavori di ammodernamento dell'autostrada a 3 Salerno-Reggio Calabria, tra il viadotto Calore e lo svincolo di Lauria Nord incluso. E ora passiamo alla cronaca. Scattate le condanne per alcuni componenti della cosca Tegano-De Stefano nell'ambito del processo denominato Stralcio, il servizio. Considerate i vertici delle nuove generazioni dell'asse di indrancheta, Tegano-De Stefano, Edmondo, Eddie Branca ed Andrea Giugno hanno subito la condanna che appare come una ammazzata in piena regola. Il gruppo di reggio Filippo Aragona ha inflitto la pena di 18 anni di reclusione nei confronti di Eddie Branca e ha 14 anni per Andrea Giugno. Entrambi erano imputati nel processo Stralcio con il rito abbreviato Il Padrino, l'inchiesta della protura distrettuale antimafia e della squadra mobile della questura di Reggio, che si era conclusa con nove condanne e sette assoluzioni, che ha disarticolato il casato mafioso egemone nel quartiere di Archie e ha spedito in galera presunti favoreggiatori della latitanza del super boss Giovanni Tegano. Branca, da genero, dal capo clan Giovanni Tegano, avrebbe svolto il ruolo di reggente della Cosca, proprio in assenza del boss, prima latitante e poi in carcere al 41 bis. Condanna e immediato ritorno in carcere per entrambi. Il gruppo ha infatti disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere, misura eseguita proprio in tribunale dai poliziotti della squadra mobile che li hanno presi in consegna per tradurli alle carceri in via San Pietro. I due erano finiti lo scorso 2 marzo al centro di una delicata vicenda tecnico-giudiziaria e scarcerati per decorrenza dei termini di fase della custodia caterale in carcere. In quel periodo Branca era addirittura recluso a 41 bis. Fino a ieri e per otto mesi hanno atteso la conclusione del processo di primo grado che li riguardava a piede libero, seppure gravati da misure accessorie, divieto di espatrio, obbligo di timore al reggio e di non allontanarsi dalle rispettive abituazioni. In mattinata si era registrata nelle aule del GUP al Palazzo di Giustizia, al Cedir, l'ultima ringa dei difensori. È stato l'avvocato Francesco Albanese, come fatto in precedenza dai penalisti Francesco Calabrese e Domenico Neto, a tentare di argomentare le stranetà del proprio assistito rispetto alle pesantissime contestazioni del sostituto della procura distrettuale antimafia Giuseppe Lombardo, che ha coordinato l'indagine il padrino. Ci spostiamo a Siderno, dove nell'ambito del Consiglio Comunale in una seduta a fiume si è discusso sulle vicende legate alle aziende chimiche ex BP e SICA, poste a ridotto delle case di contrada Pantanizi. Un Consiglio Comunale ha aperto quello di ieri a Siderno per discutere sulle vicende legate alle aziende chimiche ex BP e SICA a ridosso delle case di contrada Pantanizi. Una lunga seduta dalla quale possiamo mettere in evidenza come il bene comune della città abbia smussato fratture di maggioranza. Alla richiesta infatti del sindaco Pietro Fuda di formare una delegazione composta dal capogruppo in Consiglio Comunale e di investire in un incontro il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio per procedere in tempi rapidi alla abolifica dell'ex BP, si è vista un'apertura del capogruppo in Consiglio della Partito Democratico Maria Teresa Fragomeni. Il segretario del PD sidernese da un lato accetta la proposta dichiarando quando ci coinvolgete in questo genere di iniziative noi siamo sempre presenti ed attivi. Dall'altro rilancia chiedendo allo stesso primo cittadino Pietro Fuda di promuovere attraverso il collegio di avvocati in carico al comune un giudizio di ottemperanza per la bonifica del sito al commissario regionale per l'emergenza ambientale. Il coach della Tonno Callipo, Valdocantor, analizza l'avvio del campionato non certo positivo della squadra. È stato senza dubbio un inizio di campionato difficile per la Tonno Callipo Vibo Valencia che ha rimediato due sconfitte in due giornate, entrambe per 3-0. Dopo l'esordio sul difficile campo di Trento, dove la sconfitta può anche essere preventivabile, è arrivato poi un secondo K.O., anche più pesante nelle proporzioni, contro Monza nella prima al Palavalenzia. Domenica prossima arriva subito l'occasione per riscattarsi, sempre davanti al pubblico di casa, contro Molfetta però bisognerà vedere una Tonno Callipo ben diversa. Abbiamo sentito un po' troppo l'inizio stagione in casa, un po' legati all'inizio, non è che i ragazzi non avevano tutta la voglia e tutta la volontà di mettercela tutta e giocare una grande partita, però credo che abbiamo sentito un po' troppo il fatto di giocare questa prima partita di campionato in casa. Ci sono giocatori che non hanno mai giocato in Serie A in Italia e quindi a fare l'esordio in casa sicuramente lo hanno sentito un po' troppo. Il riscatto innanzitutto, oltre al risultato che ovviamente tutti lo vogliamo, un riscatto di approccio alla partita, di stare in campo in maniera diversa dopo aver sofferto un po' troppo il fatto di giocare la prima in casa, questo soprattutto. Poi col passato del tempo e con gli allenamenti sicuramente la squadra giocherà meglio e migliorerà. E per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle 18 per nuovi approfondimenti. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.